18 milioni 13 mila 500 lire 18 milioni a rotondo a 19 se vuole 18 non me lo chieda sia buono che poi mi fa ballare tutta la contabilità e poi l'ha regalato anche la pelle di dai e vabbè 19 non balla e a 18 balla lo vogliamo capire che offretta andiamo per dio appunto signor nataio vede voglio convincere il signor polpone a comprare un'utilitaria di queste qui così la prossima volta venga a pigliarla direttamente sotto al portone perché quante volte vuol venire a prenderla e chi lo sa sfricciamoci giovanotto minutino grazie